Chaque Fidelité è la storia di un matrimonio, inizialmente, Carlo e Margherita sono sposati e sono felici, ma qualcosa accade all'interno della loro storia d'amore, perché Carlo, che è un professore universitario, è visto in un bagno assieme a una sua studentessa. Tutti confermano la voce che solamente lei si è sentita male, lui la soccorsa, in verità qui nasce il malinteso con la sua storia passata, ovvero Margherita crede che ci sia stato un tradimento, Carlo stesso ha paura di ammetterlo e da qui comincia un'avventura che interessa non solamente il matrimonio, ma tutto il nostro tessuto sociale, quindi la società, la parte economica, la crisi di questi anni, la paura di un tradimento come la paura di una crisi mondiale, come se fosse qualcosa che si allarga a macchia d'olio fino ad arrivare ai nostri amici vicini, fino ad arrivare ai nostri genitori, scontrando la nuova generazione con la vecchia generazione. C'è una domanda a cui questo libro vuole rispondere, quanto siamo davvero fedeli a noi stessi nella vita. Noi viviamo in un'epoca di disgregazione, di paure sentimentali, i divorzi sono aumentati, ma nessuno ci dice mai che oltre ai divorzi, alle rotture sentimentali c'è anche una rettura umana dei rapporti, tutto finisce prima, tutto è molto più veloce, siamo fedeli davvero a cosa nella nostra vita? Una volta c'erano delle norme sociali che ci portavano ad essere fedeli alla religione o comunque al sistema della famiglia, ora questo non c'è più e tutto viene disgregato. Il romanzo Jacques Fidelité è diviso in due parti, la prima parte è ambientata sull'illusione dell'amore e della società, la seconda che avviene nel 2018, dieci anni dopo la prima parte, avviene sulla disillusione dell'amore e su come riuscire a riparare i sentimenti e anche l'unione le relazioni. Jacques Fidelité è un libro che deve molto a Moravia e a Buzzati, che sono i due nomi tutelari di questo romanzo per i rapporti un po' piccolo-borghesi e per le maschere che ognuno di noi mette. Pirandello, Moravia, lo stesso Buzzati costruivano nelle maschere che tutti noi dobbiamo metterci ogni giorno il gioco tra falsità e verità. chi siamo fedeli, verso chi siamo fedeli, questo è un gioco che solo la letteratura può rispondere.